mamma mia che disordine non vedo l'ora di togliermi questo questo guaio alla ragazzi come vedete abbiamo fatto tutte le colature ok utilizzando anche tante altre cose allora adesso dobbiamo incominciare anche a pittare perché abbiamo fatto comunque anche un'altra passata di gesso e gesso acrilico e colla vinavil adesso quello che dobbiamo fare è pittarlo io avevo pensato di pittare tutto bianco però siccome ci sta praticamente la parte bianca quindi il verde bianco e rosso quindi a finire che la parte bianca non è non è bella quindi ho pensato di fare tutto dorato e quindi poi i colori praticamente si vedono e quindi si notano anche bene le colature diciamo che semplicemente perché il bianco si è bello però in questo caso devo dire la verità non mi piace così non mi ispira quindi faremo tutto quanto dorato e poi le colature si noteranno verde bianche e rosse allora per fare in modo di avere un buon rendimento la prima cosa utilizzeremo una pittura spray agrilica però che andremo a pittare nei punti dove il pennello non arriva quindi andremo a pittare adesso solo i punti che a noi interessano che diciamo non possiamo arrivare con il pennello quindi questa qui è una tonalità dorata poi logicamente dopo andremo a passare sopra con il pennello quindi con il pennello cercheremo di arrivare in tutti i punti però almeno siamo sicuri che tutti i punti nascosti sono colorati di colore oro quindi non si noterà poi dopo la differenza ok a più tardi uguale come avete visto abbiamo pittato tutti i punti che poi andare con il pennello bisogna prendere un pennello piccolo quindi tutti questi punti che sono interni anche di tutte le cose vedete tutti i punti che sono interni e che sono molto difficili poi dopo da pittare di tanto vale pena parlo con dello spray dello stesso peggio dello stesso colore in modo che ti trovi già la parte interna che comunque è pittata allora adesso facciamo seccare un po e quindi dopo incominciamo a passare tutto con colla e colore oro quindi facciamo con le colore oro dopodiché sfumiamo leggermente di bianco tutte le colature in modo che abbiamo un riferimento di dove dobbiamo andare a dipingere poi dopo con la la pittura che che deve andare comunque il verde il bianco e rosso come vedete le colature ho cercato di ho cercato di non prenderla però comunque in alcuni punti si sono si prese ma non fa niente andremo a ripittare di nuovo bianco in modo che togliamo il colore oro da sotto che quindi poi si risalta il colore verde 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 bianco e rosso a più tardi alla ragazzi come vedete abbiamo dato un fondo ramato bronzo è una pittura iridescente bronzo però comunque più rame che bronzo questo mi serve per dare un distacco perché altrimenti i pezzi sopra non si capiscono ugualmente adesso non riuscite a capire perché tra la colatura e i pezzi non si capisce però li andrete a capire meglio quando andremo a definire poi con con la pittura andremo a definire gli oggetti allora un'altra cosa che volevo dirvi che andremo a pittare non tutti ma con gli oggetti li andremo a pittare con una pittura iridescente che ha colori differenti verde blu giallo blu cioè in poche parole a seconda della posizione così si crea la sfumatura della pittura e non tutti gli oggetti andremo a prendere alcuni oggetti per esempio questo coperchio qui poi andremo a prendere il manico qua andremo a prendere il tubicino qui quindi si andranno a definire tanti oggetti con colori che sono differenti e questo darà la possibilità a chi guarda di avere un punto di riferimento quindi si noterà bene proprio tutto il quadro prima logicamente di realizzare poi la pittura delle colature la pittura della colatura è praticamente la fase finale quando bisogna prima dipingere questa queste parti qui e poi andremo a a definire la pittura quindi dobbiamo dare tempo al riseccaggio e a domani ciao ciao a tutti speriamo che mi ricordo di togliere questa parte iniziale scusatemi non lo so se la rimando allora ragazzi stiamo continuando sto facendo le cose con molta calma quindi stiamo continuando come vedete abbiamo dato un po di di colore però comunque poi verrà sempre sempre più perfezionato nel senso che cambierò fino a quando non mi piace poi veramente la pittura questa qua è proprio fresca credevo che mi dava una mano la pittura delle delle boîte invece meglio l'acrilico comunque abbiamo fatto il primo adesso domani facciamo il secondo e terzo quindi facciamo il bianco e il rosso poi andiamo a perfezionare tutte le cosettine che ci stanno sotto fino a quando non si crea poi questa questa cosa molto simpatica non riesco a trovare la distanza sembra piccolo ma non lo è ma la alla più tardi a ragazzi a domani allora ragazzi quadro terminato tutta la pittura è secca vedete abbiamo fatto uscire bene tutto il colore come vedete abbiamo fatto queste differenze vedete l'ulta lucido e opaco perché così dando il luce dell'opaco praticamente l'occhio non vede una sola cosa e quindi si nota la particolarità della colatura invece noi facciamo tutto lucido o tutto opaco non c'è questa questa sincronia di di colori differenti e quindi vediamo un unico pezzo ok quindi è molto importante anche con il bianco con il bianco quello che noi abbiamo fatto è stato solo semplicemente di aggiungere il lucido in alcuni punti quindi lucido e opaco del bianco da questa sensazione la stessa cosa poi abbiamo fatto anche con il russo allora domani lo appendo e quindi logicamente come vi dico sempre non dimenticate mai nel modo più assoluto di mettere il luogo in cui avete fatto la data la firma e il numero dei pezzi se avesse la possibilità di mettere anche qualche targa come questo ancora meglio perché dico così perché nella vita non si sa mai quindi come si dice prevenire è meglio che curare però la puntata la terminiamo domani perché domani c'è jeff che mi può dare una mano per appendere il quadro che solo io non ce la faccio quindi a domani è finalmente quadro terminato un applauso sì viva l'italia viva l'italia avete visto com'è differente l'effetto guardandolo guardandolo così per vicino al muro come era diverso il discorso allora quadro completato diciamo quando riuscito come appunto vedete in poche parole io ho voluto dare una seconda vita a questi oggetti colle resine pennelli pennarelli uniposca un po di tutto ho voluto dare una seconda vita perché poi in fin dei conti sì siamo noi bravi che facciamo le cose artistiche però in realtà diciamoci la verità senza questi strumenti non è che possiamo fare solo con le mani c'è bisogno della pittura c'è bisogno della colla e quindi perché non dare a loro un'importanza perché poi in fin dei conti è importante perché grazie grazie a loro che io realizzo poi tutte queste cose quindi un quadro a meno a loro tu diciamo i pennelli così non è che ne farò chissà quanti altri ne potrei fare a tonnellate però comunque non è che ne farò tanti altri diciamo che è un omaggio proprio a questi elementi principali che servono poi per realizzare questi quadri quindi spero che sia di vostro gradimento ciao a tutti ragazzi e alla prossima per il prossimo alla prossima sicuramente che cosa andremo a fare ciao a tutti ciao